Buongiorno, stiamo a fare il corso Cerea 2, in lingua più montesa, lezione numero 13, anche che il 2 giugno del 2021 è la festa della Repubblica. Salutiamo l'Italia e salutiamo l'Italiano. L'Italia è del mondo, un gran saluto. Ciao, ciao, ciao Italia. Voi, e la viola sa bene, tra vai, da fea aca, tra vai fai tanto aca, eh? E parte per le si, ayer la frase andò aca, toccava, viste le parole che ha mancao? E che queste parole viste, toccava a cercare la poesia, la barquetta. Teniamo che buscare le parole faltanti, in la poesia, la barquetta. Allora, stiamo a farlo, eh? E poi vedi se deve farlo bene, eh? E che è un che la farlo, d'un tre, che la mandamlo sul whatsapp. Vieni, guarda mia cara, mia cara carolina, no? Carolina. Guarda mia cara carolina, eh? La luna all'espunta, eh? Saliò la luna. E il cielo as vede, come as vede il cielo? Seren, eh? Seren, eh? Parei, seren, ben. Asufia, narietta, sta soplando un airecito. Narietta, come? Tranquila, eh? Narietta tranquila, tranquila. Parei, narietta tranquila, ca, eh... Parei, narietta tranquila, ca, consula, ca, consula, ca, consula, ca, consula, il car. Il car. Che consuela il corazon, ca, consula, il car. Eh? Perché l'apostra, perché, a consula, el, eh? Iri è la e per i due vocali, eh? Bene, andiamo all'altra. Eh, l'alba. L'alba. L'alba ha spuntato già. E io ero che io dico in carabia a vita la tempesta. Allora, nemmeno la tempesta. Prima perché per vita la tempesta scrivo la. Perché? Perché tempesta, parei, tempesta, ha, come si parla con su un'altra, allora, ha smettato tutto là, eh? Agli è l'apostro, però è l'alba. Lo che spunta, aquello che spunta, chiede dire che brotta, ha l'alba, il sol, la luna, la pianta, eh? Andiamo avanti. Ha spunta già. E aventa cambiè. Cambier. Hai che cambiare, eh? E aventa cambiè la vela, per niente che? Valle. Valle. Valle che le puoi bostezà, eh? Bene. Cambier la vela, cambiare il rumbo, per non aborre, per non aborre, per niente che vallare, eh? Abostezà. La barquetta, la barquetta è l'amore, eh? La barquetta è l'amore, eh? La barquetta è l'amore, a bautia, a bautia. Beh, c'è l'amore, a bautia, a bautia, a bautia, a ben di tambaleare, o tambaleare, se bautia, eh? Eh? Ir di un lato per il lato, a bautia, a bautia, a bautia, se tambaleare, fort, un adverbe, fuertemente, no? A ben, a ben cosa, la tempesta, a ben la tempesta, la tempesta, e il rem, il rem, o sia, il remo, a se schanca, se rompe, eh? A ben malura, dice la poesia, eh? Se arruina. E me cosa, me c'èr, me c'èr, me c'èr, che è il corazone, me c'èr, a bauti finè, già non latte, bate, il c'èr a baut, eh? Latte, golpea, tambien, eh? Bate, per esempio, il tambur, eh? Il tamburnin, al baut, al batu, eh? La barchetta, una volta, la barchetta, la barchetta, la barchetta, dell'amor, l'amor, avva via per sempre, avva via la barchetta, eh? Cosa sia la poesia, era il traballo da fare anche qua, traballo sul vocabolario, che è molto ben importante. E andiamo avanti anche, e, più o meno un po', per seguire, a traballo, la grammatica, questa cosa sì, che è la grammatica, che è necessaria, e, inoltre, una roba, una cosa, una roba importante, anche il Piemonteis, che si chiama la preposizione, la preposizione, la preposizione, preposizione articolà, la preposizione articolà, parei, preposizione in castellano, se ricorda, ante, bajo, cabe, con, quando si une al artículo, in castellano, abbiamo due, al e del, che è al? Unire a, ma, el, sì? Voi al cine, eh? Voi al centro. Cosa che ha detto del? De, ma, el, eh? Vengo del cine, vengo del teatro. E, in Piemonteis, hai, 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 tante, ma, tante, tante, queste preposizioni, e, anse, liber, voi leve le preposizioni, i quadret, con queste preposizioni, articolà, o articolò, contrattò, che lo chiamiamo in castellano, alla pagina 33, e si leve là un libero, pagina 21, e guardo un po', per esempio, mi ho avuto per esempio, la barchetta, 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 scrivo ma bim, eh? Para io escapisco, la barchetta, la barchetta, del vent, la barchetta, 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 Ta guarde per l'essi, sulla barchetta, sulla barchetta, la barchetta, avva l'amor, avva l'amor, l'amor cavallcant, 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 c'è il cavall, c'è il cavall del buonheur, del buonheur, del buonheur, è quasi che lo scrivo in francese, il buonheur, buonheur che ha la felicità, la barchetta, è la barchetta, fígense questa preposizione articulata, come si dice in Piamonte, o articolo contratto, è sobre la, sulla barchetta, sobre la barchetta, in castellano non abbiamo questo tipo di articolo contratto, con sobre, sulla barchetta, va l'amor, l'amor cavallcant, o sia cavallgando, c'è il, sobre l', c'è il, c'è il, c'è il cavall, cavall sobre el cavallo del deuil n'auta a otta che sarebbe il buoneur della felicità la barquetta della via accend la forza del vent la barquetta avrà l'amor cavalcant sul cavallo del buoneur e avrìa altre per esempio se mi dice la tempesta cul trum e la losna asmesa cui vent también existen preposiciones con artículo con la preposizione con la tempesta cul trum con el trueno en castellano este tipo de artículo contracto no existe come parei voi leze la pagina 33 poi la pagina sale la liber mi davide 21 lezen po' eh sti quadret che hai beleghi e poi seguitu ma traballe ma anche mi buon feb in chip detà in chip detà un pequeño dictato un pequeño dictato y este pequeño dictato son tres dichos eh piemonteses que los vamos a revisar la próxima vez a ver cómo los escriben ustedes hay ahí artículos contractos hay hay una summa vele lì hay una summa vele lì la preposición articulada la prima cadiz escute scrive allòt santa maria all tàrdes santa lucia all vinte cinc el messia doi l'invern allè l'infern di pover l'invern allè l'infern di pover nauta ultima i più buon parent a son coi del sacucin i più buon parent a son coi del sacucin scrivoma e vedo la prossima volta ciao ciao